Buongiorno, era da tanto che volevo parlare delle case di riposo. Voi sapete che noi ogni mattina salutiamo tutti i nostri vecchietti che sono all'interno delle strutture qua alla Mesa Terme. Stamattina, così per caso sul web, ho trovato di un anonimo un pensiero importante sulle case di riposo. Quanti anni ho? Non lo so più. La mia memoria fa bruci scherzi ormai. Qualcuno mi ha detto 88. Da quando sono stato male non riesco più a parlare né a scrivere, ma riesco ancora a pensare. Da quando sono stato male i miei figli mi hanno ricoverato in questa struttura che chiamano casa di riposo. Chissà perché poi riposo. Il riposo richiama alla serenità, dopo la stanchezza, dopo gli affanni. Eppure quella stanchezza, quegli affanni erano vita e ora c'è solo attesa. Un'attesa senza speranze e senza gioia. Qui dove sono dipendo dalle batanti e dai loro umori. E se qualcuno si innervosisce perché deve cambiarmi il pannolone o urla perché non voglio bere l'acqua quasi tiepida che mi fanno ingoiare, nessuno se ne accorge o si preoccupa. E pensare che a me piaceva così tanto la Coca-Cola. Ho in estate una bella birra fresca e schiumante. Ma qui solo acqua di rubinetto, nemmeno fresca. Già, perché l'acqua non contiene zuccheri che fanno male ai diabetici. Anche se io diabetico non lo sono. Dicono che ho la demenza senile. Perché non parlo e tengo spesso gli occhi chiusi. Eppure capisco. Capisco lo stato di abbandono affettivo in cui versiamo. Siamo diventati improduttivi. Anzi, lo eravamo già quando siamo andati in pensione. E si sa, nella società fondata sul mercato, se non produci più sei fuori. Fuori da tutto. In cambio, siamo diventati noi dei prodotti. Mercia variata, ma redditizia. Perché chi ci accudisce, o meglio, ci ha immagazzinato in attesa del castronetto o dell'incerenitore. Perciò ci fanno mangiare, anche se non ne abbiamo voglia. E ci tengono sufficientemente in vita. Anche se è una vita insufficiente. Tra noi detenuti, in case di riposo, non ci parliamo. Nemmeno quelli che hanno ancora voce. Pensare che un tempo i vecchi erano quelli che parlavano di più. Li mettevano a capotavola, con tutta la famiglia riunita, i figli e i nipoti. E tutti ascoltavano il grande vecchio quando raccontava loro della sua vita trascorsa, delle esperienze, dei consigli che la vita gli aveva insegnato. Noi invece siamo tutti lì, sulle nostre carrozzine, in una saletta. In una saletta a guardare una televisione che parla da sola, senza pubblico e senza attenzione. La mattina, in attesa del pranzo. Il pomeriggio, in attesa della cena. E poi di nuovo così. Giorno dopo giorno, in attesa. In attesa di una fine che tarda a venire, come una liberazione per tutti. Meno che per l'istituto, che perde un cliente. Anche se i clienti certamente non mancano. Qualche parente di tanto in tanto viene a trovarci e ci porta un giornale o un cioccolatino che furtivamente scarta e infila in bocca al vecchietto che accenna ad un sorriso. E i miei figli non vengono quasi più. Uno è ingegnere e vive in un'altra città. E il mio figlio è sempre di corsa tra nipoti e lavoro. Tanto io qui sto bene. Cosa mi manca? Ho perfino un balcone, che non posso usare, sai, per via delle correnti d'aria. E ho un compagno di camera che parla e si lamenta anche di notte. Ma non parla con me. Parla da solo. E solo Dio sa quello che dice. Ogni tanto penso alla mia bella casa sul mare, agli amici che non vedo più, forse già morti. Forse anche loro, come me, detenuti in case di riposo o in domicilio coatto, combadanti al seguito. Tutte le mie cose, i miei ricordi, i miei libri, i miei dischi non sono più miei. Forse nemmeno sono più, magari venduti, dispersi, regalati, perché tanto appartenenti ad un moribondo ancora in vita. Nelle nostre stanze, solo indumenti, tute o pigiamoni e nel cassetto una foto inutile dei figli. Quando anche quel poco di memoria se ne andrà, si spegnerà la luce e rimarranno solo le stanze. Le stanze semi vuote e i corridoi bianchi di questa casa che nemmeno il sole riesce più a scaldare. Questo programma è offerto da... Caldaia Sime Unica Revolution 23 kW, perfetto per sostituire in canna fumaria comune 1220 euro. Caldaia Daikin a condensazione 33 kW, 1245 euro. Teca SRL, ci trovi in via delle Terme 150 alla mezza Terme San Biase, via Molino Irton 47, Laurignano di Pignano Cosenza. Prossima apertura via Alfieri, Rende, vicino supermercato Conad. Un i polsai assicurazioni, agente generale dottor Vincenzo Ferraro. Ci trovi a Piazza Rotonda 6, Palazzo Bertucci, alla mezza Terme e a Chiaravalle Centrale, Corso Gregorio Staglianò, numero 395. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. L'Agenzia Meraglia Immobiliare e Meraglia Assicurazione operano nel settore immobiliare e assicurativo per soddisfare le esigenze della propria clientela. Meraglia Immobiliare offre una valutazione immobiliare gratuita. Compravendita, locazioni, ricerca ed acquisizioni immobili, consulenza finanziaria, mutui, cessione del quinto, prestiti personali, leasing e tanto altro. Nel settore assicurativo offre RC auto, moto, camion, professionali, infortuni, abitazione, noleggio lungo termine. Meraglia Assicurazioni, Meraglia Immobiliare, via Enrico Fermi 13, la mezza Terme. Buongiorno, buongiorno, eccoci qua. Stamattina c'è una sorpresa per voi, telespettatori. O con me come compagno di viaggio, niente popò di meno che Pasqualino Rettura. Ci trovavo a passare, dica, da redazione, lo abbiamo, diciamo, beccato, lo abbiamo sequestrato e mi auguro che i cratteri non mandi, non mi mandi le orse del nord, lo abbiamo sequestrato letteralmente. Stamattina abbiamo tante cose da dire. Con Pasquale faremo una rassegna stampa che non sui generisti come il genere siete abituati a vederla, ma molto più giornalistica, anche perché c'è tante cose da dire. Buongiorno a tutti, buongiorno alla messia. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Grazie per l'invito, torniamo indietro, mi sembra di fare... Eh beh certo, ricordo, io ricordo con molta, con molta, come ho visto, di commozione, con molto, con molta, non so come dire... Emozione, emozione. Sì, perché poi, parliamoci chiaro, stiamo parlando di tanti anni fa, quindi... L'età... Quando ancora non c'erano i Sogel, no? Eh beh certo, come si stava bene. Ci siamo divertiti, certo, i Sogel ci hanno. Ecco, buongiorno a Francesco. I Sogel ci condizionano tutto. Allora, Pasqua, io direi, come facciamo ogni mattina con Giovanni, che saluto, perché Giovanni si trova nella capitale per lavoro, sempre riguardante la nostra televisione, saluto anche ad Albino, che è in stato comatoso a casa. Ha fatto il vaccino? Sì, ha fatto la strazeneca, non ci vuoi dire, voglio usare, e succede bene il tuo amore. Va bene, è normale che uno che si fa il vaccino si sente un po' così. Ogni mattina, ciao, buongiorno a Fortunato. Ah, Fortunato mi saluta, ciao Fortunato, ciao. Un abbraccio a Pasquale, senza meno, basatevi. Pasquale, noi facciamo sempre, diamo sempre il bollettino, lo so. Il bollettino Covid? Eh sì, non è che è una cosa che... Alla Mezzia, diciamo, o Calabria? No, prima parliamo di La Mezzia e poi ampliamo il regolazione. La Mezzia succede quello che sta succedendo ormai da tempo, non so perché, ma anzi forse io una spiegazione ce l'ho, nel senso che, Toni, non so, probabilmente ci ha fatto caso pure tu, nei primi giorni della settimana, tipo lunedì, martedì, a volte anche mercoledì, ci sono molti casi. Dopo mercoledì, giovedì e verdi ce ne sono di meno, ma è una cosa scientifica, è una cosa proprio... Infatti ieri sono stati registrati 5 nuovi casi positivi alle Mezzia, a fronte dei 30 che ci riconosciano a inizio settimana, 30, 25, 40, 49, eccetera, eccetera. Solo 5, poi ci sono fortunatamente più guarigione, meno 9 positivi, che sono 11, i casi attivi ora scendono a 485. Insomma, all'impennata di contagi che si registra a Cosenza, che è una cosa... No, infatti... Alla Mezzia... A Cosenza, ecco per esempio in Calabria sono stati 600 nuovi positivi, di cui, di questi 600, 400 a Cosenza e Provincia, cioè se non fosse per Cosenza e Provincia erano 200, voglio dire. Noi, ogni mattina qua... E' chiaro che se voi sentite... Anni a me voce, anni a me voce, no... Vi potete buttare in uva, scusatemi il termine, no... Che poi c'è gente che dice il linguaggio, ma alcune volte il linguaggio sopra le righe ci vuole per far capire le cose meglio... E poi attenzione che ci sono ancora troppi deceduti, ieri sono morte altre otto persone... Che qua a volte... No, numeri, questi numeri sono anche drammi familiari... Questi numeri sono persone... Eh, non è che sono solo numeri... Abbiamo gente in terapia intensiva, che sono anche amici... Amici nostri o conoscenti, eccetera... Guardate, gente che sta lottando tra la vita e la morte... E non c'entra la solita storiella, quando uno dice, sì, però avevano già altre patologie... E che significa? Se non prende il virus, comunque vai avanti... Il coronavirus accentua, accentua le patologie che abbiamo... Ci mancherebbe altro... Però, voglio dire, cercate di essere prudenti... Ecco quando sento, per esempio, i tanti amici che abbiamo... Conoscenti, commercianti, imprenditori, ci mancherebbe altro... Lo Stato deve stare vicino a loro... Li deve ristorare per quello che è giusto... Deve dare dei fondi, cose... Però attenzione che non è facile in questa situazione... Non è facile in questa situazione dire apriamo tutto, sciamo tutto... Vabbè, ci vorrebbe la capacità di saper contemperare... Un equilibrio... Ha detto, ci mancherebbe lo Stato... Però, Tony, è una questione epocale che nessuno si sarebbe mai... Insomma, arriva meglio il paradosso... Ne cacciamo a mezzo di piedi dopo il virus... E poi c'è una pandemia economica... Che distrugge totalmente il tessuto economico dell'Italia... Non ti vuoi dire che la salute è la cosa più importante... Ma non c'è due... La salute è la cosa più importante... Sì, ma non c'è due... E allora, se la cosa più importante è la salute... Allora va messa al primo... A cui la saluti si può faticare... Eh, eh... Salutiamo Antonino Pennelli... Sì, Antonino, buongiorno che ci saluta... Francesco Canzonieri... Va bene, allora... Abbiamo detto di la mezza terme... Quindi il numero dei positivi, se proprio lo vogliamo dire, è sotto i 500 canonici... Eccetera, lo so, sono freddi i numeri... Come abbiamo detto con Pasqualino, sono persone poi... Eccetera... Speriamo, perché il virus cammina con le nostre gambe... È inutile girarci attorno... Ci vuole prudenza... E come ho scritto ieri sui social... Una buona dose di culo... Quindi... Stiamo attenti... Specialmente il fine settimana... Il fine settimana sul corso Pasquale mio... Io lo sto frequentando poco per mille motivi... Io non sono uno scienziato... E non sono un viroolo... Però mi pare, da quello che sentiamo da esperti... Che, è chiaro, gli assembramenti vanno... Mettiamoci in testa una cosa... Partiamo dal presupposto che è la distanza che è quella che fa la differenza... Cioè, se noi stiamo distanti, non succede nulla... Perché è così... Possiamo anche non usare la mascherina se stiamo distanti... Ma anche all'aperto si può fare... Però all'aperto c'è meno rischio perché siamo all'aperto... Ma comunque, assembramenti bisogna evitarli... Bisogna evitarli... Però Pasquale, no... Non pensi io, no... Noi ragioniamo, no... Terra a terra... Ma guarda che io ho saputo poco fa... Prima di venire qua... Che gli assembramenti... Lo sai dove si stanno creando pure? All'ospedale... Mentre vai a vaccinare... Non ci... All'ospedale ci sono assembramenti... Mentre tu vai a vaccinarti... Sì... Ai laboratori che hanno fatto... Agli ambulatori... Sì... Ci sono persone che... Creano un sacco... Perché non ci sono addirittura... Tony, mi dicevano... Che non ci sono le indicazioni per mantenere la distanza... Non le famose freggi... Vedi qua... Ecco, vedi... Mi è pervenuto questa... E io ringrazio... Ringrazio i nostri telespettatori... Vedi qua... Le sembra corretto e giusto che in ospedale ci sia questa pessima organizzazione... Ore e ore di attesa... Persone anziane ad aspettare... Che vengono chiamate in piedi senza nessun distanziamento... Ancora più grave... Che da quell'attimo passino anche persone ammalate... Quindi davanti... Sì... Che non possono deambulare con l'ausilio di Barella... Beh certo... Una vergogna... Quindi mi scusi lo spoco... Ma come non hai fatto bene... E noi vi ringraziamo... Questo deve essere il vostro compito... Di comunicarci le criticità... Che vedete... Perché noi poi le portiamo all'attenzione... All'attenzione... Delle istituzioni... Di chi di competenze... Quindi vi ringraziamo per questo... Sì... E come ha detto Pasquale... All'ospedale le cose non vanno granché bene... Sul piano organizzativo... E poi... Parliamoci chiaro... È un discorso vecchio... L'ospedale... L'ospedale... Trasmette il contagio... In maniera incredibile... L'ospedale è pericoloso... Io che... Pasqua... Che da tempo dovrei fare una visita... Non sto andando in ospedale... Perché sono terrorizzato... Sì... Ma infatti c'è il crollo... Delle... Delle prestazioni ambulatoriali... In tutta Italia... Sì... Un ospedale è vuoto... Esatto... Ma anche questo però è un errore... E ci rivolgiamo... Alla mezza abbiamo un ospedale grande... Tra i più grandi della Calabria... Se non il più grande... Come struttura... Sì... Però è vuoto perché non ci sono malati... Perché i Covid sono tutti... A Cosenza... A Reggio... E a Catanzaro... Alla mezza... Addirittura... Tonì... Questo è un dato di fatto... Lo sai quanto... Fanno circa 30 pasti al giorno... Alla mezza... Quello significa... Quanto persone sono ricoverate... Alla mezza sono ricoverate... Cioè... In una struttura... Così grande... Ci sono 20-30 persone ricoverate... Extra Covid... Parlo io... Cioè... Perché... Addirittura... Il personale... Che non si occupa di Covid... Viene mandato in ferie... Perché non ha niente da fare... Cioè... Questa è una notizia che io disconoscevo... No... Te lo dico io... No... Attenzione... Perché c'è poco... Ci sono... Poco fa... Tu hai detto che i pazienti... Non vanno in ospedale... Perché hanno... Sì... E alla mezza... Sta succedendo questo... Che... Per quanto riguarda... Che ti dico... L'ortopedia... La ginecologia... Gli altri reparti... No... Extra Covid... Ci sono pochi pazienti... In un ospedale immenso... Che è diventato ormai... Ma beh... Questo... Questo è un gravissimo errore... Sicuramente... Il Covid... Ha preso il sopravvento... Devono ingozzare... Devono ingozzare... Gli albi... I cosiddetti albi... Cioè... A Cosenza c'è la fila... Delle autoambulanze... Qualcuno... Ma qua... Gli ammalati oncologici... C'è una cosa seria... E noi... Non possono bloccare... Le loro cure... E noi alla mezza... Non abbiamo... Con sui casi Covid... Perché... Perché la politica sanitaria... Miope... Campanilista... Ha deciso che tutto... Deve essere riversato a Catanzaro... Io mi ricordo la... Che adesso non c'è più... Doni... A proposito del... Dottore Petronio... Che era il reparto... Di malattie infettive... Te lo ricordi pure... Il primario... E... Quando... Vicino... Tra altre cose... Noi abbiamo un reparto di malattie infettive... Staccato... Dal corpo del Giovanni Paolo II... Sì... E in una posizione invidiabile... Al centro della... Ed è chiuso... Quei reparto è chiuso... E mi diceva... Che lui quando era primario... Lì doveva... Dovevano costruire un centro regionale... Di malattie infettive... Ci sono solo i pilastri... Non so se tu hai capito dove... Di fronte agli uffici amministrativi... No... Che succede... Lui... Come dire... Invocava la riapertura di questi reparti... La risposta che gli fu data... Perché lo intervistavamo... Per il Quotidale del Sud... La collega Eugenia Cataldo... Lo intervistò per il Quotidale del Sud... Stiamo parlando del 2006-2007... La risposta che ebbe... Dall'azienda sanitaria... Era che... La situazione epidemiologica... Non era talmente grave... Che non... È inutile aprire un reparto... Quando... Sarebbe improduttivo... No... Noi curiamo soltanto qualche EDS... Dicevano all'epoca... La famosa aviaria... Poi c'era la suina... C'erano queste malattie... Però lui disse... Petrone... Ancora conservo l'intervista... E se dovesse arrivare una pandemia... Mondiale... Dove li mettiamo la persona? Disse il dottore... Vedete qua... Vedete che... È arrivata la pandemia... Salutiamo anche i familiari... È arrivata la pandemia... Purtroppo... E non sappiamo dove mandare le persone... Eh... Qui... Cioè voglio dire... Questo è anche... Ti mostro l'incapacità... Cioè bisogna prevenire... 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 Non è che siccome non ci sono malati... Tu non fai gli ospedali... O chiudi gli ospedali... Perché non ci sono malati... Qua qua... Noi abbiamo fatto ancora uno piccato... E lo stiamo pagando... Io non so... Perché la Calabria... Deve pagare questo prezzo... Questo apre e chiudi... Io non lo capisco... Cioè siccome ci sono meno contagi... Allora... Raperemo... Raperemo... Poi dopo... Eh... E ci ho dimonato la volta... Ma che significa... Avete visto la Sardegna... Era zona bianca... 10 giorni... Ad essere rossa... Eh... Che significa... Bisogna prevenire... Cioè... Siccome c'è questa situazione... Dobbiamo stare attenti... Mi è piaciuto... Mi è piaciuto... Bastetti... Ieri sera... Quando parlava di convivenza... Perché arriveremo al punto di... Di convivere... Con il coronavirus... Di convivere... Quindi... Debbono cercare il governo però... Noi siamo... Siamo in loro balia... Praticamente... Parliamo... Parliamo di chiaro... Eh... Il lago manda... Non si capisce niente... Come diceva... Pascale Pocanzi... Raperezzuti... Raperezzuti... Sta distruggendo... Commercianti che sono suicidati... C'è gente che sono suicidati... Non si rende conti... Decidiamo... È zona rossa... Non è che siccome... Abbassano i numeri... Dobbiamo aprire... Questo secondo me è sbagliato... Capisco che ci sono pressioni... Da parte... Delle imprese... Di chi va a scuola... Eccetera eccetera... Però... Bisogna stare molto cauti... Perché... E poi comunque... La responsabilità è nostra... Non è che siccome... Tony scusami... Siccome siamo zona bianca... Allora io me ne vado... E ognuno fa quello che vuole... E ognuno fa quello che vuole... Dobbiamo essere noi... Dipende da noi... Non c'è dubbio... Non c'è dubbio... Non c'è dubbio... E tu... Come è possibile... Che la Calabria è stata zona rossa... Tony... La Calabria è stata zona rossa... 15 giorni fa... E invece... E i contagi stanno aumentando... Si può dire che non abbiamo rispettato le regole... Non c'è dubbio... I trasporti pubblici... Ecco... Questa è un'altra cosa però che... Il governo deve dare anche delle spiegazioni... No... Cioè voglio dire... Sui pullman... Su come i sardini... Nei treni... Su come i sardini... In ospedale... Non c'è la distanza... In altri posti... Non c'è la distanza... E viva Dio... Penalizzate i bar... Penalizzate i bar... Non c'è una a vota... Penalizzate i ristoranti... Che può non stare benissimo... Noi tavolo là... Noi tavolo qua... A distanza... Eh già... Cosa ne pensate delle tariffe... Aspetta... Cosa ne pensate delle tariffe... Tutto il male possibile... Della spazzatura... In questo momento di crisi... Grazie commissario... Vedete qua... Fanno e disfano... Out del garante al pass verde... Non assicura la privacy... Va corretto... No... Tu passi... D'hanno parlato... No... Stiamo parlando... Di un passaporto verde... Per poter... Cedermi... Ma ora... E poi... Ti può fare un tampone... Pi' 48 ore... Tutti ti piace... Bene... Il garante ha detto... Alta... Le mie rivedere... Vediamo quello che a migrare... Perché non rispetta... La privacy... Avete capito? Quindi... La cazza presciarola... Pare che sta facendo danni... No... Ha fatto i figli ciechi... Eh... Ha fatto i figli ciechi... Cosa ne pensiamo... Rispondiamo a Fortunato che ci pone questa domanda... Cosa ne pensiamo... È una cosa gravissima... Questo... Aumentare la Tari... Eh... Insomma... Tra le altre cose... Voglio dire... Mi pare... Io adesso non... Non dico così per dire... Mi pare che sono previste... Proprio degli interventi... Nei vari decreti... Fra le maglie... Dei decreti che fa il governo... Sono anche previste... Delle agevolazioni per i cittadini... Da questo punto di vista... Sia per quanto riguarda la Tari... Che altre tasse... Mi pare... Opa Squa... Ma chi sticcavi... Motri commissari... Che io non conosco... Tra parenti... Non so nemmeno come... Le loro fattezze... Nemmeno le conosco... Ma chi sticca... Non gliene fotte nulla... Fai qua... Ma non c'è chiara... C'ha uno più uno... C'ha due... Hai un luogo buoni giornali... Che avranno degli introiti... Secondo loro... Di 12 milioni... 12 milioni di euro... Io ti posso dire... Che comunque... Questi commissari lavorano... Poi... Sai... Sono commissari... Non è che devono dare conto... Come dici il giusto... Non è che devono prendere voti... Lavorano... E ti dico... Che se ci fossero stati loro... Al posto del commissario precedente... A Lecci... Sarebbe stato diverso... Perché comunque... C'è il dottore Calende... Il dottore Guerriere... Il dottore Priolo... Che hanno dell'esperienza... Lavorano... Poi... La prima loro uscita pubblica... Sarà il 25 aprile... Perché la prima volta che li vediamo in buco... Quando andranno a fare le tre celebrazioni... Nei monumenti... Ma sono da chiacchierare loro... Va bene... Qualcuno mi dirà... I doni però... Comunque lavorano... Comunque lavorano... Poi... Ma qua... Io prendo per buono... Che lo che mi stai dicendo... No... Lavorano... Lavorano... Tu hai avuto modo... Magari anche di conoscerle... Eccetera... Magari sono io che pretendo troppo... Da costruire... Tony... Sul piano della comunicazione... Questi sono come... Ti ripeto... Non è che devono... Prendere voti... Non c'è dubbio... Allora... Fammi il loro lavoro... Sono dei burocrati... Come dire... Degli impiegati... Sono dei rappresentanti dello Stato... Voglio dire... Piuttosto cerchiamo... Noi cittadini... Di non far succedere più... Che vengano i commissari... Allora... Parliamo della nostra... Al comune della Mese... Parliamo della nostra città... Voi sapete che l'altro giorno... E' un'esercizio di chi la cosa... No... No Vax... No Vax... 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 E cioè... Praticamente... 25 e 26... Si dovrebbe... Tenere questo... Vax... No... E 24 e 25... Oggi e domani... Quindi... Oggi e domani... Bene... Sapete... Ovviamente... Poi quando ci sentiranno in replica... Un portello... Come va... Sapete... E le grida... Che abbiamo fatto qua... Perché la Mese... Come al solito... Viene estromessa... Tanto... Ci mettiamo a stiterno... A Pasqualuzza... C'è la Mese... Ma di tutti i dir... Anche perché abbiamo modestamente... Si avverte il peso di due parlamentari... Eh... E' un consigliere regionale... O qualcuno dei parlamentari... O qualcuno dei parlamentari dirà... Grazie a noi... La Mese è stata inserita... Vabbè... Comunque... Come si dice... Tutto è bene... Quel che finisce è bene... Ma poi c'è una cosa che... E' passata... Scusami... Inosservata... Tu sai... Che la Giunta regionale... Ha approvato... La città del cinema... La fondazione mediterranea... Eterina di La Mezzaterra... In commissione regionale... Pietro Molinaro... Consigliere regionale della Lega... L'ex presidente della Coldiretti... Ha detto no a questo progetto... Però la Giunta regionale è andata avanti... Perché non era vincolato... Cioè noi abbiamo un consigliere regionale della Lega... Raso... Cioè dello stesso partito di... Molinano... Non ha detto a... Sì... E chi se non ha atturato... Politicamente... Sotto tutti i profili... Consigliere Raso... Risponda... Ci risponda... Anche tramite un comunicato... Anche tramite un comunicato... Su quello che ha detto Pasquale... Eh... Perché... Pasquale... 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 Difficilmente... Si sbaglia... Consigliere... Su questo non dovete avere dubbi... Allora... Io non voglio... Assolutamente... C'è il mio amico... Franco Lugia... Che... Che... A scoppio ritardato... Ha nascuto... Che alla Mezzia... Doveva essere in sedia... Ebbene... Sì... È stato in sedia... È stato in sedia... Quindi il Vax Day... Ci sarà anche alla Mezzia... E vedi pure... Una delle città più grandi... La Calabria... Tra le altre cose... La Mezzia... L'ospedale di La Mezzia... Non è che serve solo La Mezzia... Che la gente di Mezzia... Sì... Serve 21 comuni... Sì... Sono 200.000 utenti... Sì... Ecco perché hanno affiggiato... Un errore a monte... Platania... San Pietro a Maida... Maida... Tutti questi paesi... Abbiamo un Interland... Gizzeria... Dove va? Tutto l'ospedale di La Mezzia... San Pietro a Maida... Ma che di ciò contiamo... Eh... Se non abbiamo un peso politico... Eh... Scusate ma... Cucchini parramo... Isti cosi ca... La Mezzia... La Mezzia... Pari i genti... La Mezzia a ca... La Mezzia a nare... Cucchini parramo... Con chi dialoghiamo... Tonino voleva dire che... Sulla gazzetta c'è scritto... Che giovedì pomeriggio... L'ASP ha detto sì... Anche alla Mezzia... Come centro vaccinale... Invece... Sul quotidiano... Lucia dice che... Bisogna inserire... La Mezzia e scudere la Mezzia... E lui dice che è incomprensibile... Scudere la Mezzia... Però... Qua c'è stato un black out informativo... Prima di tutto... Della Regione Calabria... Perché la Regione Calabria... Proprio ieri... Cioè... Quando già... Cioè... Quando già l'ASP aveva deciso... Che la Mezzia... Doveva essere anche... Punto vaccinale... Invece... La Regione Calabria... Fa un comunicato stampa... E mette le otto... Gli otto punti... In cui la Mezzia non c'era... Quindi... La mano destra... Non sa quello che fa la mano sinistra... Sì... Non c'è dubbio... Ma queste sono... Questo è... Ecco... La Regione... Si trova in queste condizioni... Quindi... Chi è Caparramo... Questo è il discorso... E poi... Giustamente... Ci sono queste incongruenze... Che potrebbero teoricamente... Far ridere... Ma non è così... Perché chi fa ridere... È la Regione... Eh... E non i giornali... Ma è la Regione... I giornalisti che fanno... Attingono... Ma tra le altre cose... No... Ma voi... Dico... Vi rendete conto... Chi è che ci sta governando a noi... Cioè... Spirli... Cioè... Voglio dire... Sta facendo... Prendendo dei fischi per fiaschi... Stiamo un po' diventando... La barzelletta d'Italia... Ebbè... Non c'è dubbio... Con la... Una grandissima... Guarda... Per quanto mi guarda... Ogni giorno... Ogni giorno parla di terapia... Ma è una grandissima delusione... Guarda che io... In Calabria... Da un anno e più che abbiamo questa pandemia... Non è... La politica regionale... La Regione... Il Commissario del Pianco di Diena... Non ha creato un solo posto di terapia intensiva... Uno... Dobbiamo solo ringraziare i medici... I primari dei reparti... Che sono loro... Che stanno a mani nude... Stanno cercando di affrontare questo maledetto virus... E non c'è dubbio... Ma... Altrimente la Regione... Poi l'altro giorno... Una barzelletta... I parlamentari calabresi... Toni... Tutti... Sì... Non li vede il Ministro... Il Ministro c'ha i numeri... C'ha i comitati scientifici... C'è bisogno... Ma che ci state prendendo in giro? Esatto... Non sanno che pesci pigliare... Pasqua... Parliamoci chiaro... E' come se dicessero che a casa mia mi devo rendere... E non lo vedo quello che succede... Ma questa dimostra se ce ne fosse bisogno dell'incapacità... Della classe politica... Ma ci sono i numeri... Doni... Ma rendersi conto... E da... Cercate di fare posti letto per le persone... Aprite gli ospedali... Ma poi stiamo pagando... Stiamo pagando con Giovanni dicevamo ieri... Stiamo pagando la politica che è stata fatta a livello di sanità... Non dimenticare... Che è venuto che lo speculativo... Ci hanno detto... Vai là e taglia... Taglia e taglia... Ci sono rami secchi... Taglia e taglia... Il generale Cotticelli... Ma poi il medico suo ha indagato... Se era lui o non era lui... Ma voi vi rendete conto che faccia il letto... Poi è stato intervistato Cotticelli... Ma... Non sono io... Ci sono stato... No, non è questo... No, non è questo... Non te lo... E' ancora l'altro... Cotticelli... No, quando stiamo parlando del taglio... Ah, scura... Scura... Alla sanità... Hanno tagliato tutti i rami secchi... A loro parere... Invece hanno fatto tanto... Io non ero io... Quello che è... Ma... Ciao, salutiamo a Tiziano... A Tiziano... Non ero io... Che ci saluta... E sto parlando... Il mio medico sta indagando... Magari... 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 Bisognerebbe... Riproporla proprio... Quando uno sta male alla casa... Riproporla... Riproporla che è là... I risultati... Magari... Per toglierti qualche problema dalla testa... Ti vedi a Cotticelli... in quell'intervista e vedi che ti riprenderai subito Macelleria, il gusto delle carni Macelleria, gastronomia Carni locali, nazionali d'essere porchetta, angusto l'uguagliano salumi di produzione propria stinchi arrosto, cibi pronti a cuocere freschi o congelati Grigliate cotte e verdure cotte da asporto preparati per celici freschi o congelati di produzione propria banchetti e servizi a domicilio da noi inoltre troverete enoteca, latticini pane casareccio, frutta e verdura il gusto delle carni la qualità dei prodotti è la nostra forza ci trovi in contrada Savutano via Mascagni 23 la Mezzeterme telefono 0968 43 90 32 P-Farma, cura, natura, benessere P-Farma, il centro farmaceutico più grande nella tua città con ampia scelta di prodotti con aree interamente dedicate alla poricultura, alla nutrizione, alla medicina olistica e un'area dedicata a prodotti erboristici P-Farma, farmaci e parafarmaci ad uso umano e veterinario P-Farma, ampio laboratorio per le preparazioni galeniche P-Farma, centro destinato a tutti i tipi di trattamenti estetici P-Farma, lo puoi trovare in via del progresso 103 alla Mezzeterme ad orario continuato da lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20 e 30 Teca Gas è un'azienda giovana e snella di distribuzione e vendita GPL propano su tutto il territorio calabrese ubicata nella zona industriale di La Mezzeterme dispone di un proprio impianto per lo stoccaggio e l'imbottigliamento del gas grazie alle ventanali esperienze nel settore maturato della capofila Teca Termica Caronte l'azienda si distinta per serietà, professionalità competenza, puntualità nella realizzazione e forniture di impianti civili industriali agricoli e utenze a contatore Disponendo di una flotta di automezzi di proprietà riesce a raggiungere qualsiasi angolo della Calabria occupandosi dell'approvvigionamento del prodotto dai più importanti depositi costieri italiani fino alla consegna presso l'utente finale Grazie alla collaborazione con uno dei più importanti colossi nel settore in Italia il gruppo Autogas Nord AGN Energia oltre al GPL riesce a portare nelle case degli utenti il gas metano e l'energia elettrica occupandosi inoltre della consulenza per la fornitura e la messa in opera di impianti solari e fotovoltaici Ci trovi nella zona industriale Are Exisir La Mezza Terme Ombrelloni telonico sentino Diana Dattilo dal 1938 Arredo mare, arredo giardino, tende moschiere teloni per camion, coperture su misura, gazebo, tende da sole The Horse e pergole Ci trovi in via Formidi 13 salita via dei Mille terzo incrocio a sinistra telefono 0968 44 16 75 oppure 333 92 15 650 Guglielmo Store La Mezza Terme Da noi puoi trovare caffè in capsule e cialde caffè in grani, caramelle, liquori vendita di macchine da caffè e incomodato d'uso gratuito inoltre gadget Guglielmo e confezioni regalo per tutte le tue occasioni Guglielmo Store La Mezza Terme ci trovi in pieno centro su Corsone Mistrano di fronte alla Madonnina in uno spazio accogliente dove poi immergiati nel gusto del caffè che fa a centro A proposito di Carlo Carlei C'è la quarta puntata La Fuggitiva È l'ultima Se non mi sbaglio è l'ultima Giorno 26, lunedì tutti davanti Io ho avuto il piacere di intervistarlo Rai 1 alle 21 e 25 La Fuggitiva del nostro concittadino Carlo Carlei è stata una Fuggitiva Un successo Bellissima Stava battendo come ascolti anche l'Isola dei Famosi Sì, vabbè non voglio essere assolutamente cattivo però superare l'Isola dei Famosi Non è che è un grande merito Secondo me Senza attenzione Però sono reality che vanno A me non piacciono almeno Senza nulla togliere a Carlo Noi siamo veramente orgogliosi di avere un ragazzo, un regista come lui che si è fatto strada da anni non è che ha bisogno di presentazioni Carlo Quindi invitiamo tutti i Lametini almeno tutti quelli dell'Interland di guardare questa ultima puntata Dove ci saranno colpi di scena Si capirà il mandante dell'omicidio dell'assessore regionale Non parlare di cosa? Non parlare di omicidio Stiamo parlando del film Sì, ma tu sei pericoloso Ma tu l'hai visto il film? Sì, ma tu sei pericoloso Perché il cronaca nera è giudiziaria Pasquale è terribile A proposito Pasquale Io ieri mi sono lamentato perché mi pare Mi pare che La rinascita scorsa Non c'è la grande stampa Abbia scorsa Se non fosse per il quotidiano Esatto Poco spazio Poco spazio Sui media nazionali Che è lì sono importanti Anzi Approfitto per salutare a Pietro Comito Che ieri sera Ha fatto un reportaggio Ha fatto un reportaggio La prima puntata Complimenti A Pietro È stata una bella Una bella Una bella idea Questa qua Anche per tenere viva Questa storia Perché io Ripeto Pasquale Stiamo parlando Di un processo Ha avuto contatti Con i vibonesi No? Quindi Vediamo che uscirà fuori Cioè Ecco Vedi Giustamente come Volevo anche Diciamo aggiungere qualcosa Da questo punto di vista Al di là del processo In sé Del dibattimento E poi della decisione finale Se uno è colpevole Se uno è innocente Non c'è tu C'è uno stato di diritto E ci mancherebbe altro Però no Uno Se segue tutte queste cose Perché siccome alla mezza Ho seguito tanti processi Poi direi Fai una riflessione Su quello che è accaduto E che accade in Calabria Al di là di poi Se uno è colpevole E innocente Questo non c'entra Ah ma tu stai parlando Tu stai parlando Però escono fuori Delle cose Tu stai parlando Di questo spaccare Terribile Esatto Escono fuori Delle cose Che sono penalmente Rilevanti O non rilevanti Lo stabilirà il giudice Però escono fuori Delle cose Che un cittadino Poi madonna Per esempio Io seguendo il processo Perseo Seguendo il processo Andromeda Seguendo il processo Medusa E tutti i processi Eumenidi Eumenidi Sapete quante cose Uno non sa che esce fuori Che non sapeva Bisogna sapere Poi dopo C'è la condanna La soluzione E un altro discorso Vabbè non ci sono dubbi Ma io ieri parlavo Guardate che non è fantascienza È la realtà Dicevo io Ieri Proprio il discorso tuo Abbiamo fatto ieri Ci mancava Voglio fare un esempio Alla Mezzia C'è stato Uno dei pentiti Più importanti Uno dei primi pentiti Più importanti Un certo Angelo Torcasio Detto Porchetta Sì Il quale Lui raccontava Perché era entrato Nella cosca E quando un pentito Racconta perché Entra nella cosca Ti accorgi E poi ci dice Madonna Lascia stare la condanna La soluzione Però escono fuori Delle situazioni Che non dice Ma voi vi rendete conto Ma perché Questo che cosa fa? Ci sono cose Penalmente Irrilevanti Questo è entrato Nella cosca Perché voleva capire Che aveva ucciso Il fratello E per capire Perché Ucciso il fratello Ha ucciso lui Di venti persone Cioè ti rendi conto E poi Cosa esce fuori Dallì Cioè voglio dire Un spaccato terribile Ho fatto un esempio Per un Pasquale Tra il serie e il faceto Spesso e volentieri Abbiamo detto Pasquale Ma tu sei una memoria storica Da questo punto di vita Ma perché io Facciamo un libro Sì Guardate Tutti quanti Ci sto pensando Tutti si sono cimentati No Sono amici Anche il Badolangelo Badolà Tu sai benissimo Dove ci vuole pure il tempo Io non so come fare È una questione di tempo Però È uno dei miei obiettivi Pasquale Ci sono tante cose Che magari Ancora non sono cita fuori Perché comunque Come dire Sui giornali Uno deve mettere La notizia lì Così Per dire Però poi scolo fuori Tutte queste cose E poi La mezza è una città Torni da questo punto di vista Per quanto riguarda Il settore di cui stiamo parlando Che non ha memoria Sì Questa città Non ha memoria Sì Si dimentica troppo Sì E infatti succede A ogni consultazione elettorale Dimentica troppo Ragazzi Dimenticate troppo Ci vuole memoria Per guardare al futuro Dobbiamo capire cosa abbiamo fatto Sì Presente e poi il futuro Sono d'accordo Sono d'accordo Ecco per esempio Alla mezza Sta succedendo Tu lo sai Noi siamo lamettini Tu hai lottato per l'università Quindi con te sfondo Una porta aperta No Però alla mezza Non mi dovete dire Se in un tribunale Un'inchiesta è un'inchiesta importante Cinque anni non è stato sentito Un testimone Ma allora Siamo arrivata la precisione Ma allora se così chiudetelo il tribunale Lo diciamo a malincuore Perché noi siamo lamettini Ci dispiace per Giovanni Che si è insediato da poco E gli vogliamo E vabbè Ma se non c'è Ma le mie giudere In questa maniera O fate i processi E come diceva un mio amico Qualche anno fa Il tribunale della mezza È diventato un rinviificio Un angelo da madonna Ciazzosi Ciazzosi Ad Albino Un rinviificio Ad Albino Lo salutiamo con affetto Albino Allora No no Ma ci siamo un po' Dilungati Su questo tema Però è un tema Che a me Mi affascina Per certi versi Perché stiamo parlando Noi viviamo In mezzo a questi Parliamoci chiaro E quando Pasquale Dice che non abbiamo memoria Significa Guardiamo un cucchiere Negli un cimo No Quando dicevo un caffè Un caffè Non lo potevamo piare con tutti Non diciamo I sarifichi Sennò Specialmente Quando è il periodo elettorale Evitate il caffè A me fanno ridere alcune persone Anche di una certa cultura Tonino Di una certa Levatura Diciamo Questo falso perbenismo Che c'è in città No Quando dice Ah però Bisogna stabilire Se uno è innocente Ma lasciamo stare i processi Ok Attenzione Che io e Pasquale In questo In questo Io e Pasquale Siamo A cerrimi Rivali Io sono Ipergarantista Sì Ma detto Ma non è che noi La dobbiamo mettere sul piano Pasquale alcune volte E qua sbagliate voi Pasquale alcune volte E come viene tacciato Come se fosse un Un malestaro No Io dico delle cose Posso garantire Che non lo è Lui da buon giornalista Perché Pasquale Non ha bisogno Non ha bisogno Che lo dica E' un ottimo E' un bravo giornalista Pasquale Che fa Pasquale Scrive In base a chi Luca scrive Nei giudici Tony Scusa Perremmo di chiaro Ma io voglio fare Ecco Un esempio Per capire Perché qualcuno Un esempio Per capire subito Se io leggo Un'intercettazione Telefonica Di una persona Che al telefono Dice cose Censurabili Moralmente Per me è condannato Per me Per me A livello morale Etico Perché ha detto Quelle parole Poi può essere Pur assolto E' un altro discorso No 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 Su queste hai ragione E' un altro discorso No su queste hai ragione C'è capito Su queste hai ragione Per esempio All'inchiesta Eumenidi All'inchiesta Eumenidi Ci sono delle Degli imprenditori Di Catanzaro No Che non Che non Dicono Che chiamano Il sindaco Della mezza Coso Cioè Paolo Mascari Queste sono cose Che sono uscite L'imprenditore Noto Lo chiamava Come si chiama Coso Cioè L'imprenditore noto Che diceva Il sindaco Di la mezza Lo chiamava Coso E io Sono intercettato C'è un amico mio Che chiama Cosa Salvini Cioè L'ingegnere noto Chiama Coso A Mascari Per me Censurabile Poi Può essere pure Che ha assolto Coso Faccio un esempio Visto che stiamo Parlando di Eumenidi Che sono Che sono cose Uscite sul giornale Come dici Pasqualino Ripeto Non ha bisogno Che lo Lo metta io Vi posso garantire Che riesce Lo spaccato Di una volgarità Una Tuttoni Te ricordi Questa te la ricordi pure Una dipendente Delle risorse Umane Cioè Capo del personale Della Sacra Di Catanzaro Imputata in questo processo Che dice Lamettini di M Puntini punti Te la ricordi? Sì Questi lamettini di M Di merda Io traduco Va Villo Ciao Buongiorno Gennaro Pio E quindi Una di queste Che dice queste parole Al telefono Al di là Che può essere assolta Però per me È condannata Da un punto di vista Morale Etico Sì Sì No Pasqualino E l'abbiamo dimenticato Sono sulla stessa lunghezza D'onda Su questo C'è Guardate C'è Vediamo Con Pasqualino È molto difficile Fare una rassegna stampa Perché con Pasqualino No 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 Non scuso niente Io Mi fa piacere Farla con te Perché Poi Le cose si allargono Entriamo nel merito Di alcune cose Con Giovanni Diamo le notizie No aspizzichi Eccetera Pasquale invece Che volete Essendo una memoria storica Ricordandosi Tanti risvolti Eccetera Può un po' Far a meno Medici No Allora Intanto C'è una lamentela Da parte di Piccione Di Piccione Di Rosario Che salutiamo Riguardo Ai disservizi Alla mensa scolastica Ancora Questa mensa scolastica Stiamo combattendo Ci sono problemi Sulla qualità Del cibo Della mensa scolastica E chiede Ai commissari Commessamente Di vigilare Di più Sul servizio Offerto Cari commissari C'è che Il mio amico Pasqualino Ha detto Pocanti Cacati Cacati Eccetera Quindi Come direbbe Sandro Ciotti Fate un lavoro Oscuro Ma redditizio Ecco In termini calcistici E così L'umediano Ha chiesto No Fai il lavoro Sporco Ma redditizio Ecco Questa lamentela Da parte di Rosario Merita Di essere Guardata E' riguardata Una notizia Che non so se ne debbo ridere O piangere A Lucampo Santo I Calerna I piecoli Vanno a dosordi Hanno liberato I piecoli Da Lucampo Santo E danno Che i cani Passeggiassero Sul lungomale Allora Il Tar Ha dato ragione Ai proprietari C'è stato Rolamentale Era un bordello Mi ricordo Sì La guerra Danno le tutti Di corte e di cruza Nei confronti Del sindaco Con l'invisibile Con l'invisibile Non aspetta A me niente Però attenzione Attenzione Cari amici Dato che Io so pure il cane E mi lo posso permettere Voi lo dico Passiate Quello cane Ma portatevi Tutto quanto Tutto l'occorrente Appresso Eh Undecco Tarra Ha detto Libertà I cani Potete camminare Sul lungomare E facciamo C'è la popola No no Siete tenuti Comunque A tenere pulito Il lungomare Quindi Fate attenzione C'è questa notizia Pure importante Che leggiamo Dal potere del sud Il comitato Salviamo La sanità Della Medino Chiede di trasferire L'emodinamica Del Sant'Anna All'ospedale Di La Mezza L'emodinamica E' una cosa importante Salva le vite umane Perché lo sappiamo L'hanno cacciata No L'abbiamo No Non c'è mai stata La vorremmo Perché un comprensorio Grande come La Mezza L'emodinamica E' una cosa importante E ce la cacciamo Agli Sant'Anna No Visto che magari C'è questo Sant'Anna Che ha problemi Visto che hai partito Il discorso dell'ospedale Comunque su Sant'Anna Tony Sì Vai vai Ma che mi riguarda Per questo Due cose Prima cosa Vi chiedo scusa Se si è staccata La connessione Ma la linea Oggi va e viene Per il mal tempo Non è colpa mia La seconda cosa Visto che Pasqualino Mi allaccia Il discorso dell'ospedale E' possibile Che fare la fila Per provare il ticket Dell'ospedale Ci metti Sei ore Cinque ore E a Catanzaro Io ci ho messo Cinque minuti Ieri Perché Te lo spiego subito Perché il centro Unico di prenotazione Che c'è Alla Mezza E' collegato con Catanzaro Non siamo autonomi Nemmeno col centro Di prenotazione Ma la prendo Con i dipendenti No no Perché i computer Stai dicendo E' grave Le linee Le linee Diciamo Online Di prenotazione Fanno tutto online Sono collegate Poi Catanzaro Poi deve dare la risposta Non abbiamo Perché l'ASDA Dipende da Catanzaro Non è più autonoma Come era un tempo Ma un bacino Che c'è la Mezza Non è lo stesso Eh ho capito Ma c'è sempre Il solito problema Su tutto La Mezza Viene trattata Come un piccolo comune Perché non siamo Allora Cioè la Mezza 70.000 abitanti E' come se fosse Soverato 5.000 abitanti E' come se fosse Chiaravalle Platanino La stessa cosa E' un problema comune A tanti cittadini Ci sono dei messaggi Allora Domenico Tropeano Ormai anche una pizza Si prenota E si paga online E per prenotare una visita Occorre fare ore di fila Poi Gianmario Pantini Buongiorno Buon fine settimana A tutti Antonino Pennelli Ci sono fatti mettere In piedi In piedi in testa Purtroppo Allora Stavo dicendo La vicenda del Sant'Anno Tony E' giusto Che si deve salvaguardare Questa eccellenza Perché C'è gente che lavora Hanno salvato Vitomane Salvano Vitomane Però ricordiamoci Che Il pesce Puzzato dalla testa Al Sant'Anno Hanno truffato lo Stato Un'altra volta Ma Gli amministratori Quindi I dipendenti Secondo me Dovrebbero anche Andare a protestare Dagli amministratori Che si sono Tra virgola Pare Secondo quanto dice La Procura Secondo le indagini Della finanza Operazione Cuore matto Si chiama C'è stata questa truffa E quindi Tutto parte da questo Non dimentichiamo Non c'è dubbio Però Abbiamo Delle eccellenze Prendetelo anche Con i vostri amministratori E con i vostri titolari E poi prego i politici Di non strumentalizzare La sabbia Lasciateci stare No no Il sabbia Dello posturgo Agi di danne Agi di danne Ci vuole una Ci vuole da parte Allora Per lo sport Calcio Tony C'è questo Derby San Pia Sevi con la mese È la terza giornata Del minicampionato Di eccellenze La stracittadina Domani come si dice Sarà la stracittadina Eh E quindi C'è un articolo Anche di Agostino Che salutiamo Eccellenza Posizione condivisa Dal difensore La viga La media Può E deve crescere Ancora Non c'è dubbio Per il San Biase Fanello San Biase Concentrati Ma senza Foga Il tecnico Indica la via Verso la stracittadina Indisponibile Solo De Fazio Speriamo che sia Una bella partita Che non Non ci siano Non lo so Polemiche Eccetera E quindi Tra le altre cose Negli ultimi Negli ultimi 4-5 anni Il risultato È stato sempre Di 1-1 Ah 2018-2019 1-1 Poi 2019 Guardando la classifica Guardando la classifica Sempre 1-1 Hanno pareggiato Anche se è presto Diciamo che Chi ha L'obbligo Di non perdere tempo E la viga La media Comunque Tonino Questo è un mini Campionato Siccome comunque Va Dalla fine Tutte le squadre Fanno i playoff Qui bisogna Giocare Per ottenere Il migliore Riazzamento Playoff Quindi Arrivare primo Potrebbe anche Non significare nulla Nel senso che Se uno arriva primo Comunque Playoff Deve fare L'unico vantaggio Che ha Di giocare in casa Però È sempre una gara secca In casa Si può vincere Si può Quindi voglio dire Non è che chi arriva primo Vince il campionato Sempre il playoff Deve fare Quindi la viga La mezza Così come il San Biasi Devono giocare Per arrivare Al miglior Piazzamento Playoff Perché poi Lì si deciderà Tutto E quindi Per la viga La mezza E per il San Biasi Questo più È una cosa Allenante Diciamo Per arrivare Al meglio Ai playoff Allora Come dice Henry David Toro I sogni Sono come Le pietre di paragone Del nostro Carattere Ha detto Ortona Dobucinna Un bel Torneo Dei bar Vabbè Con l'Inter È abituato Ad altri livelli Si danno Cogliuto Monta Stastoria E lui Come al solito Allora Salutiamo A padre Giuseppe Come sempre Ti vogliamo bene Caro padre Giuseppe La chiesa Ricorda San Fedele Di Sigmaringen Sant'Antimo Sant'Antimo Che è molto Molto Seguito In Campania E Santissime Maria Di Cleofa E Salome Benissimo Allora Amo giusto Ringrazio A Pasqualino Lettura Per la sua presenza Salutiamo Ad Albinuccio Lunedì Rientri alla base Un'aria complicata Sta facendo Umore E che cos'è Va bene Allora Grazie anche a voi Per l'invito Pasqua Buon lavoro Ci rivediamo Buongiorno Buongiorno a tutta la mezza Buongiorno a tutta la mezza Buongiorno a tutta la mezza Ma non solo alla mezza Siamo anche in diretta facebook Buongiorno a tutti Insomma Quelli che ci seguono Va bene Pasquale Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Ciao ciao